E' stata presentata ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 30 giugno la nuova giunta targata Francesco Menna. Si parte, si parte con grande velocità, con grande attenzione, con cura maniagale dei problemi, con la passione maniagale dell'artigiano che vuole dedicare tempo, passione, competizione alla propria città, ai propri cittadini, andando a tracciare anche un percorso importante, andando a continuare e a perseguire quella trama dei rapporti con la regione Abruzzo, con lo Stato centrale e con Bruxelles. Il primo cittadino ha mantenuto per sé tre deleghe. Voglio dedicare tempo a tre deleghe, l'urbanistica, personale e bilancio. Sono tre deleghe importanti, tre deleghe su cui voglio scaglionarmi, voglio essere presente. Menna poi ha risposto a tono a chi non vede tutto questo rinnovamento nella sua giunta e tra i consiglieri di maggioranza. Vedrete persone che non hanno il sangue blu, che non derivano da intrecci con famiglie note della politica o con poteri, persone che portano in sé la grande voglia di fare, la grande voglia di contribuire e sono il grande rinnovamento del Consiglio Comunale, il grande rinnovamento per sei settimi della giunta, ma soprattutto il rinnovamento dei rinnovamenti, la svolta generazionale epocale di un sindaco di 38 anni, cosa importante e nuova per la città. Una giunta di cui farà parte Antonio Del Casale e a cui sono state assegnate deleghe pesanti, tra cui lavori pubblici, servizi cemiteriali, politiche energetiche, polizia municipale, trasporti e attuazione del programma amministrativo. Intanto ringrazio il sindaco Francesco Menna per la fiducia. Mi aspettavo delle deleghe pesanti, queste deleghe sono arrivate, le affronto con grande determinazione, con grande umiltà e soprattutto spero fin da subito di andare a creare una roadmap andando a verificare tutte le incompense che ci sono fin da subito. Sono settori importanti, a questi aggiungo anche un settore come i trasporti o i servizi cemiteriali che sono dei settori nevralgici per la città, dei settori diversi, dei settori su cui ci sono diverse problematiche. Sicuramente la delega dei lavori pubblici è una delega che spero possa regalare qualcosa che rimarrà a questa città, sicuramente l'impegno sarà in questa direzione. Lo stesso del Casale ha rimarcato su quali priorità agirà. La priorità fin da subito credo sia l'isola pedonale a Bastomarina. Farà parte della giunta anche Gino Marcello a cui è toccato il demanio, la salvaguardia del patrimonio comunale e la manutenzione dei servizi logistici generali. La continuazione di un lavoro che è iniziato 6-7 mesi fa, ci tenevo alla riconferma su questo incarico, mi è stato concesso questa possibilità, ci sono dei programmi molto ambiziosi quindi cercheremo di realizzarli per il bene della città. Se il buongiorno si vede dal mattino mi sembra che la città sia rispondendo in maniera positiva, quindi andremo avanti di comune accordo con la collaborazione della città per portare Basto ad un livello sicuramente superiore. Quattro le deleghe assegnate ad Anna Bosco, quali politiche comunitarie, trasparenza, politiche per la scuola e politiche per le realtà periferiche. I quattro deleghe, in realtà aspiravo a due di quelle deleghe, quella sulle politiche comunitarie di cui ho tanto parlato durante il mio percorso di campagna elettorale e quella anche sulla scuola. La trasparenza invece e la deleghe sulle politiche periferiche sono una novità che comunque vanno di pari passo. Inoltre la giovane del PD ha ribadito sin da subito quale sia la sua priorità. La deleghe sulle politiche comunitarie è il mio obiettivo principale perché esiste ad oggi un ufficio che è instaurato nel comune già dal 2013, però ha avuto un po' di rallentamento comunque come ogni novità ci sono mesi, anni di rodaggio all'inizio, quindi adesso dare un'impostazione all'ufficio sulle politiche comunitarie, trovare un team, una squadra di collaboratori per iniziare subito a rispondere ai bandi europei è la mia priorità attualmente. A carro della pena di filo comune sono toccate agricoltura, pesca, turismo e sport. Bisognerà lavorare assiduamente con quelle che saranno le realtà sportive della zona che non comprendono soltanto il calcio e per ciò che concerne poi il discorso turismo appunto riportare Vasto dove merita anche lì perché ne abbiamo bisogno e dovremmo cercare di essere in sincronia con gli operatori turistici e commerciali e cercare appunto di fare del nostro meglio. Della Penna però dovrà fare i conti con la situazione bilancio che sicuramente non agevolerà il suo lavoro? Il discorso approvazione del bilancio semplicemente perché abbiamo per buona parte di luglio un po' le mani legate quindi dovremmo cercare di sviluppare quelle che sono le nostre idee nel periodo di agosto però siamo già partiti con qualche idea e ringrazio appunto gli operatori sia del consorzio di Vasto Marina che di Vasto Incentro per la loro collaborazione proprio riguardo al calendario e iniziare a partire da subito cercando appunto di ridare vita alla città soprattutto nel periodo estivo. Farà parte della giunta anche l'INA Marchesani a cui sono andate le politiche sociali e le politiche dell'immigrazione. Negli altri due mandate elettorali nel decennio non abbiamo mai avuto questa delega e il sindaco ha voluto darmi questa delega e quindi sono contenta sia per me che anche per il Partito Democratico perché è una delega forse anche un po' affine come sono io il carattere di quello che ho fatto nella mia vita e cercherò di farla al meglio quindi praticamente ci sono le persone disabili cioè già c'è una struttura che prevede noi sono già organizzati però io una cosa che voglio dire sarò presente in quella struttura e quindi vedrò di persona quello che si può fare quello che si può migliorare. La carica di vice sindaco è andata a Paola Cianci la quale avrà come deleghe ambiente mobilità sostenibile aree protette ecologie e pari opportunità. Il lavoro da fare è tanto, lo faremo con lo spirito che ha contraddistinto anche il lavoro svolto in consiglio comunale in questi anni che come diceva bene il sindaco ci ha visti in prima linea su quelle battaglie legate alla difesa dell'ambiente però io ritengo che queste deleghe possano essere associate non solo al turismo ma anche alla cultura. L'abbiamo detto molto in campagna elettorale, bisogna valorizzare il patrimonio naturale esistente, valorizzarlo associandolo e promuovendolo con i grandi eventi e viceversa. Ed infine a Gabriele Barisano di Avanti per Vasto sono andati i servizi demografici, le politiche del lavoro, le politiche giovanili, le attività produttive e l'innovazione tecnologica. Io credo che al di là delle singole deleghe, io credo che questa giunta si deve caratterizzare per un lavoro di squadra. Se facciamo un lavoro di squadra con l'aiuto di tutti, un consiglio rispetto all'altro, credo che potremmo fare bene.